Papà, papà! Ma perché ti tocca con la sua blotta della piccita asco? Amore perché sei un pirla! E perché sei un pirro? E perché togli le rotelline dalla bici Chiedi sempre perché ai tuoi genitori, imparerai qualcosa? Che cosa? Che sei un pirro! Benvenuti a bordo dell'astronave Ludovica I Durante la trasvolata proietteremo il film Apollo 13 Vendicheremo ora l'ubicazione delle uscite di sicurezza Li, Li, La Altitudine notevole Temperatura esterna NP Ricordiamo inoltre ai passeggeri Che è severamente vietato fumare Farsi le canne e farsi le pippe Grazie Grazie a tutti.